Ciao! Ciao! Allora guardate ho preso un mazzo di carte gigante e l'ho fatto tagliare in due parti Ok? Allora guarda ora ti faccio vedere tutte quante carte diverse l'un dall'altro da poker Ok? Te le faccio scegliere una, dorso in alto così Allora te le apro per bene, tu me ne dovrai indicare una, ma che vuoi? Ok? Questa! Questa qui? Yes! Questa qua, all'attiva, tiralo fuori, falla vedere pure in camera e ora veniamo a te Ok? Allora, l'altra metà del mazzo Vediamo di sceglierne una anche tu, totalmente a caso, quella che vuoi Io te le apro bene tutte quante così mi dici, me ne invidi una Questa qui? Sì! Ok! Vieni! Non la farò vedere te in camera Allora, non ci crederete ma l'esperimento è già riuscito Sapete perché? Perché guardate, il dorso combacia esattamente la metà dell'altra carta Non siete molto convinte? No! E va bene, allora forse vediamo così Se vi faccio vedere che anche le facce sono uguali Voi avete preso tutte e due la metà dell'otto di quadri Ciao! Ciao! Autore dei sorrisi